Ehm, perché questo è il zumbo? Incredibile! Dobbiamo andare a Roma! Aleee! Sì, dobbiamo andare a Roma, quindi oggi partiamo per Roma E siamo, sono qua fuori casa mia E perché? Non lo so Non so perché Ehm, si va a Roma Oggi andiamo a Roma e poi dobbiamo andare a Romics E si ritorna domenica sera Perché dobbiamo andare soltanto a Romics Comunque, comunque, tra un poco dobbiamo partire Quindi tra un poco prenderemo una macchina E io mi porto dietro questo Che mi sono sempre portato dietro E niente Borsellino No, cioè, tipo, ho messo il mondo lì dentro E niente, mo adesso Posso metterlo il telefono a caricare e si va Questo è il con cui andremo lì a Roma Vedete che so, sto per entrare E siamo un tipo un viaggio di famiglia Adesso tra un poco Che saliremo Perché dobbiamo partire E niente, salutiamo un attimo casa mia Ciao Ehm, beh, non so Siamo vicino a Napoli Sto con la maglietta della Juventus E la giacca del capuzzo Meno male che fa freddo Che mi posso mettere la giacca Che se no mi ammazzano No, vabbè Comunque, questo è il primo stop che facciamo Dopo tipo tre ore di viaggio Mi sono andato E' scassato i coglioni di viaggiare C'è un vento della Madonna Penso che a cielo a mare c'è un caldo C'erano più di venti gradi E' una barba Qua sta Un freddo Seconda sosta Ehm Mamma mia Non ce la faccio più C'è un bicchiere Tipo Più di tre ore Siamo ufficialmente in Campania Prima mi sono appena accorto Mi sono accorto che eravamo in Puglia E là c'è tipo Che cazzo Che è la roba Dunque E' tipo da Da luna che siamo partiti Sono le tre E' tipo da mezzogiorno E' mezzogiorno e cinquanta Che siamo partiti Ehm Sono le tre E mezza Quindi se pensate da quanto tempo siamo in giro Terza sosta Sembra l'Allianza Stadium Ma Sì Ehm Non è vero Beh Questa Di qua Di qua Sembra tantissimo Ma che cazzo Niente Comunque I cosi Siamo a Roma Avevo fatto Tipo cinque Siamo appena arrivati Io sto stanchissima C'è un trattore E c'è tutto Ma che cosa Orribile Mi ho fatto Sei ore di strada Per ritrovarci la Puglia Addosso E c'è così E' proprio Vabbè Fa niente Allora Mo dobbiamo andare da mia zia Che devo andare a vedere Il nuovo cugino Che è nato Un mese fa E E niente Mentre in poi Continuo a fare questi A cazzo così E niente Mo stiamo andando Mo che bella posso far vedere Che faccio vedere Pure la macchina Con cui siamo andati Che mo che sto qua La faccio vedere Comunque E' dentro Un po' Aspetta Che non posso Prendere la targa Questo Non è Dovevamo arrivare Qua Le cinque E mezzo Sono le Le otto e venti Le otto meno venti Sono le Le sette E cinquanta E cinquantuno Quindi pensate Che ora siamo arrivati E questo è il posto Siamo arrivati da cinque minuti Questa è la situazione Che stiamo andando Adesso Vi metto delle immagini Della casa Che ho registrato Non vi dico Che sono bellissime Però Vi dico Che potrebbero Essere simpatici Cioè Boh Vedo uno spoiler Va bene Questa parte di Non l'ho fatta vedere E niente Sarà già uscito Quando uscirà Questo video Il trailer Del viaggio E niente Oddio Che cazzo è successo Maronna Saluto Ci vediamo dopo Che cazzo è successo Qua Vicino a casa Di mia zia Che ora dobbiamo Andarla a trovare Che è nato Mio cugino Questa sono tutte le macchine Questa è il nostro macchinone E noi siamo qua Per ora Che stiamo Camminando Qui Come vedete E stiamo camminando Perché adesso Dobbiamo andare a trovare Mia zia Guardate qui C'è la mia ombra C'è Niente Questa è in teoria Casa di mia zia Quindi adesso Si entra C'è la mia ombra C'è la mia ombra